Vediamo la neve del numero 41 della Ust di Laddins. La Ust di questa settimana si avrò con un articolo di sport. Si adora Andrea Seppi, si era fuori al suo ultimo tornoio del livello mondiale. Nel concorso fotografico Laddins, la giuria di questi due vensitori. Una piattaentrì ad ascoltare il Festival di Chorus di Becci della Laddins, Stato e Fodom. La Presidenta del Ski Club Gardena, Lidia Bernardi, non è stata l'Itèda del Consiglio della Fisi. Vediamo che la dice. Dell'attualità ricorda il professore linguistia Naccaro che si accruzziato l'ingazzo Laddins. E la lingua descomensativi della scuola d'arte di Fasa che ora si usa per il cedean. Della piatta di Fasa, i momenti offiziei e i festeggiamenti per la Fradaà, andrò la città tedesca al Comun Fasan, che andrò, cresce e si vive in teia. Il fai di Fasa e Fiema fa discorrire testimonianze di art, storia e cultura di Meida. Il Festival della Birra Artesanella e Ruà a Pozza con cerce e raide sul territorio. La degustazione dei vini più alti del mondo ha garantito un po' per noi. A pede, conoscendo la nostra libertà, la rubrica di Daniele Verra. L'Associazione Trentina ha dato fuori alla ego e ai imprenditori. Ricorda una persona che si ha dato giù della comunanza e per i diritti di Laddins. Sott'è la nostra ritraddata in due neri. Della piatta di Gerdena ha una cioccoletta con l'Uba Comploi del Selva, che è la passione del Judo. E una intervista alla presidenta della LIA Teatr di Santa Cristina per il Cedean. Le passacchine se in dall'evento storico del referendum del Soramont, che resta una questione attuale. Da Ampezza, significate i nomi sui sassi dei confini, con Teten Liber. Da Fodom, la storia del Grob da Bal, che è festesa a Quarantin. Dalla piatta della Val Badia, la pubblicazione Neva, che conta della strada che ha mudato il destino della Val Antria. E il Dome di Delegrezza per piccoli e grande, l'Amazon di Libras. Dalla piatta di Sport, la neva del settore dell'Hockey della squadra Maurras. Ed è che l'esdi soigno. I risultati della squadra di balonar cedeta da Mr. Cigolla. E saranno su con i consegni della luna di Gladia De Bertol. Sulla Ustiladins, ogni vender, potete trovare la neve staduta alla Ladigna. Per info e abbonamenti, potete viaggiare alla redazione di Fascia su un stradone a San Giang. Telefon 0462 764545 Mail Fascia, sgnecola, laus.it Il Sfo interladino lente online sul sit laus.it Oltre la bottega di Sfo esce tutta la Val. Grazie a tutti.